Per la Calabria è urgente riprendere il confronto sulle tematiche infrastrutturali aperte, lo dice Tonino Russo, segretario regionale della CISL. Le carenze nelle infrastrutture rischiano di far precipitare ulteriormente la Calabria sul piano inclinato della mancata crescita. Riguardo alla ZES unica, la Calabria non è in grado di competere proprio perché gli investitori importanti sono scoraggiati dalle carenze infrastrutturali ad intervenire sul nostro territorio, il che darebbe dignità al lavoro e creerebbe occasioni di sviluppo. E ci sono poi altri temi decisivi che la CISL ripropone con determinazione perché costituiscono senza dubbio elementi chiave per la crescita. Un'alta velocità ferroviaria vera che tolga la Calabria e i territori interni grazie agli opportuni collegamenti dall'isolamento rispetto al traffico passeggeri da e per l'Europa, il completamento della strada statale 106, la realizzazione della Galleria Santo Marco con il potenziamento e l'adeguamento del trasporto ferroviario ionico così da valorizzare il porto di Gioia Tauro. E riguardo proprio a Gioia Tauro, dice ancora Tonino Russo, è importante accelerare il suo nuovo rigasificatore. Su questo punto si può giocare una partita importante per la mobilitazione delle merci surgelate sui mercati internazionali, stoccando i prodotti a zero costi nella struttura portuale che offre grandi spazi e opportunità. Per queste ragioni, conclude il segretario della CISL calabrese, chiediamo tavoli settoriali urgenti per recuperare ritardi che rischiano di diventare insormontabili.